Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono la causa delle guerre. Il martiriato popolo ucraino, i popoli palestinesi e israeliani, il popolo sudanese e tanti altri. Al termine di un anno si abbia coraggio di chiedersi quante vite umane sono state spezzate dai conflitti amati, quanti morti e quante distruzioni, quanta sofferenza, quanta povertà che ha interesse in questi conflitti. Ascolti la voce della coscienza.